Siamo qui al forum di Asago, sta per cominciare l'evento più importante rap dell'anno, Hip Hop TV Ciao ragazzi Qual è il tuo rapper preferito? Salmo Salmo, lo sapevo, l'avevo immaginato, già dal look si vede, no? Cattiveria Salmo e poi? La cattiveria Ah, la cattiveria di Salmo, ottimo batterista pure mi sembra, no? Un bel flow, molto duro, aggressivo Adesso è uscito l'album, il video quello con chi l'ha fatto? Quello della macchina nel deserto, è uscito con quello famoso Ha fatto un video insieme ad un altro, è uscito dieci giorni fa Ah, non ho visto Però come collaboratore, diciamo Non l'ho visto Non ricordo, molto bello Non l'ho visto Qual è il tuo pezzo preferito di Salmo? Vabbè, il vuoto L'erba di Grace No, l'erba di Grace non ti piace Non ti piace? Mi piace Yocono E altri rapper che ti piacciono? Bah, l'italiano non mi piace molto altro Mi piace molto East Coast, West Coast Ho capito Americano Queste cose commerciali come Club Dogo non ha successo niente Che ne ha detto Abbiamo il titolo Ok, grazie Tu e quindi tra poco comincia Tra poco entro, recupero gli amici Recupero gli amici Da come lo sono Ok, grazie per l'intervista Grazie a tutti